Buonasera, bentrovati ancora una volta in diretta dalla cappellina dell'Episcopio della Diocesi di Rimini per vivere insieme la Via Luci su un cammino di preghiera dietro al risorto in compagnia di Maria. Una edizione speciale quella di questa sera perché insieme al nostro Vescovo Lambiasi saranno sette donne a donarci una piccola testimonianza, a raccontarci come la Ressurrezione è entrata nella loro vita. E allora ringraziando già da ora anche Alessandro Giovanardi per averci aiutato nella scelta delle immagini che accompagnano le letture vi auguro un buon ascolto. La pace sia con voi e con il tuo spirito. Care sorelle, cari fratelli, cari amici, benvenuti a questa celebrazione della Via Lucius che, mi permetto di dirlo per chi per la prima volta si mettesse in ascolto per seguire questa preghiera, è una contemplazione di Gesù risorto nelle sette apparizioni che lui fa ai suoi nel tempo della Pasqua. E dunque è un cammino che va dal primo giorno di Pasqua fino al cinquantesimo, quello di Pentecoste. Prima tappa. I discepoli trovano il sepolcro vuoto. Ti adoriamo Gesù risorto e ti benediciamo perché con la tua Pasqua hai dato la vita al mondo. Dal Vangelo secondo Giovanni. Nel giorno dopo il sabato, Maria di Magdala si recò al sepolcro di buon mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro, hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Uscì allora Simon Pietro insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro, e vide le bende per terra, e il sudario che gli era stato posto sul capo non per terra con le bende, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Non avevano infatti ancora compreso la scrittura, che egli cioè doveva risuscitare dai morti. Maria di Magdala si reca al sepolcro e lo trova vuoto. Immaginiamo lo shock di quel trauma dolorosissimo. e allora lo va a dire a Pietro e a Giovanni, che di corsa si recano anche loro alla tomba e la trovano vuota. Ma non si può trovare un Gesù vivo tra i morti. E allora si è reso forse irreperibile, introvabile? Se mi guardo con gli occhi di quando ero bambina, sicuramente non avrei mai immaginato di diventare quella che sono oggi. E mai avrei immaginato quanto Dio, giorno dopo giorno, potesse entrare a far parte della mia vita. E quando ero piccola, spesso mia mamma mi chiedeva di andare alla messa o a catechismo e io vivevo questa cosa come una costrizione. Poi durante il mio cammino di crescita, per fortuna, ho incontrato delle persone che sono tuttora importanti per me e per la mia famiglia, che guidate dal Signore mi hanno permesso di percepire che dentro di me cresceva un piccolo seme. Lo stesso che mi ha permesso di superare certe situazioni che mi hanno segnato, ma che in questi momenti mi hanno fatto capire quanto fosse importante la sua presenza, perché grazie a Dio riuscivo ad avere quella spinta, quella forza per affrontare quello che mi capitava nel cammino, per affrontarlo col sorriso, in maniera coraggiosa, sapendo che comunque vicino a me c'era Lui e che se fossi caduta, sicuramente mi sarei rialzata grazie al suo aiuto. Io sento la presenza del Signore, vedo la sua luce, la vedo nelle persone che incontro, nelle esperienze che vivo, la vedo ogni giorno nella persona che ha deciso di mettermi al mio fianco, mio marito, la vedo nei nostri figli, tre doni importantissimi e spesso nei momenti di smarrimento, proprio in loro sento la sua presenza. Quando ad esempio mia figlia durante il gioco inizia a cantare un gloria, oppure quando improvvisamente si fanno il segno della croce senza che nessuno glielo chieda, o recitano un Ave Maria. Proprio in questi momenti capisco quanto sia presente nella nostra vita e quanto sia una parte fondamentale in ciascuno di noi. Io faccio l'insegnante e prima insegnavo in una scuola gestita da suore dove mi era naturale parlare di Gesù, poi ho dovuto fare una scelta e ho iniziato a lavorare in un'altra scuola. Ero un po' titubante, ero paurosa, ma ho accettato la sfida perché sapevo che comunque era un po' più difficile parlare di Dio, ma parlando con un nostro caro amico prete, lui mi disse tu grazie vai avanti, continua nel tuo cammino e vedrai che Gesù ti aprirà la strada. Infatti così è stato, un bimbo un giorno, vedendo la mamma, gli è corso incontro dicendo mamma mamma qui dentro c'è Gesù. Era un semplice biglietto di Natale ma in quella frase era racchiusa tutta l'essenza del camminare lentamente nel cuore di ciascuno di Dio e questa è la sua luce, la sua luce che penetra lentamente nei cuori di ciascuno per donare tanta altra luce. La sua luce è la sua luce. Seconda tappa, il risorto si manifesta alla Maddalena. Ti adoriamo Gesù risorto e ti benediciamo perché con la tua Pasqua hai dato la vita al mondo. dove era stato deposto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero, donna perché piangi? Rispose loro, hanno portato via il mio Signore e non so dove lo hanno posto. Detto questo si voltò indietro e vide Gesù che stava lì in piedi ma non sapeva che era Gesù. Le disse Gesù, donna perché piangi, chi cerchi? Essa, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse, Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto ed io andrò a prenderlo. Gesù le disse, Maria. Essa allora, voltatasi verso di lui, gli disse in ebraico, Rabbuni, che significa maestro. Gesù le disse, non mi trattenere perché non sono ancora salito al padre, ma va dai miei fratelli e di loro. Io salgo al padre mio e padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Maria di Magdala andò subito ad annunziare ai discepoli, ho visto il Signore e anche ciò che le aveva detto. Donna, perché piangi? Le nostre sorelle, le donne, hanno un rapporto particolare con la vita e dunque con l'amore e con il dolore. Donna, perché piangi? Questa domanda che Gesù rivolge alla Maddalena continua a rivolgerla ancora a tante donne che lui incontra nel loro dolore. Questo brano del Vangelo mi ha sempre commosso tantissimo perché c'è una donna, Maria di Magdala, all'esterno del sepolcro vuoto. Quindi è una donna che non si è rassegnata a un'assenza. Questa sua non rassegnazione mi piace tantissimo perché è dettata dall'amore, quindi le sue lacrime sono lacrime bellissime. In lei rivedo un atteggiamento tipicamente femminile. Sarà perché noi donne siamo veramente, fin dalla nascita, nella maternità, ma ogni qualvolta accudiamo la vita, attaccate così visceralmente alla vita stessa che ogni volta che lei è messa in discussione dalla malattia, dall'assenza e dalla morte, noi non ci rassegniamo. Andiamo alla ricerca continua di un senso e questo senso è solo Gesù Cristo. Quante volte nella nostra vita di donne infatti ci siamo dovute trovare a constatare un'assenza, la malattia nostra, di un figlio, di una persona cara e noi abbiamo continuato ad amare. Quindi questa ostinazione tipicamente femminile ci fa sempre andare oltre, scavare, scavare. Ma Martalina cosa fa? Guarda dentro il sepolcro, ma trova solo due angeli. Ancora non le bastano, vuole trovare il suo Signore. Si volte indietro, lo vede, ma non lo riconosce. Ha bisogno di voltarsi meglio, di alzare il suo sguardo e il suo cuore. Lo riconosce quando Gesù la chiama per nome, quindi quando ha un incontro personale con lei. Lei ha le orecchie, le antenne alzate e lo riconosce subito. Ecco, in lei, in questo atteggiamento, vedo un altro tratto tipicamente femminile. Quante volte nella mia vita, nella vita delle mie amiche, ho notato che noi donne abbiamo quella sensibilità particolare per captare l'indefinibile, il Signore. Quindi ogni qualvolta lui ci viene incontro nei sacramenti, nella parola, nell'abbraccio di un amico, sì, nell'abbraccio di un'amica, noi lo possiamo riconoscere. Noi donne, quando ci sentiamo chiamate per nome, abbracciate, consolate da un'amica, noi veniamo proprio rimesse al mondo e per noi è vera risurrezione. Quindi Maria di Martala ci insegni sempre ad avere le antenne alzate. Un'altra donna straordinaria che è stata così, sempre predisposta ad accogliere dentro di sé Gesù e ovviamente la Vergine Maria. E quindi io ho sempre immaginato un loro abbraccio, l'abbraccio di queste due donne che non viene raccontato nel Vangelo. Anzi, il Vangelo non ci parla proprio della Vergine Maria dal momento della croce del figlio alla Pentecoste, ma sono sicura che in quanto mamma lei ha captato, ha capito subito che suo figlio era risurto. Quindi immagino l'abbraccio tra Maria di Magdana e la Vergine Maria, queste due donne che hanno mantenuto dentro di sé sempre la speranza e la fede, nonostante la morte. È tipico di noi donne abbracciarsi, ritrovare se stesse e risurgere. Penso all'abbraccio bellissimo che c'è stato tra la Vergine Maria ed Elisabetta. E poi un'altra cosa che mi colpisce tantissimo appunto che Gesù ha voluto conferire a una donna, Maria di Magdala, la prerogativa di essere la prima apostola, di testimoniare per prima la sua resurrezione. Quindi queste due grandi gioie che ci vengono date, la nascita e l'annuncio della testimonianza in due grandi donne, la Vergine Maria e Maria di Magdala. Quindi come donne veramente siamo chiamate ogni giorno, appunto perché il Signore è lo stesso ieri, oggi e per sempre, ad accogliere la sua nascita e a testimoniare la sua resurrezione. Quindi queste due grandi donne ci aiutano veramente a rimettere al mondo Gesù e ad annunciare sempre la sua resurrezione. Terza tappa, il risorto si manifesta di scipoli di Emel. Ti adoriamo Gesù risorto e ti benediciamo perché con la tua Pasqua hai dato la vita al mondo. Dal Vangelo secondo Luca In quello stesso giorno due discepoli erano in cammino per un villaggio distante circa sette miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di tutto quello che era accaduto. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro, ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro, che sono questi discorsi che state facendo fra voi durante il cammino? Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli disse, Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni? Domandò, che cosa? Gli risposero, tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo. Ed egli disse loro, stolti e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti. Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero. Resta con noi, perché si fa sera e il giorno già volge al declino. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma lui sparì dalla loro vista ed essi si dissero l'un l'altro. Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi, lungo il cammino, quando ci spiegava le scritture? La croce ha due lati. Da una parte dice odio, violenza, dolore, morte. Dall'altra dice pazienza, pazienza, amore, vita. Ma per intercettare il lato luminoso della croce abbiamo bisogno di incontrare il Signor Risorto come avvenne per i due di Emmaus. Due discepoli con il volto triste. Le loro speranze sono cadute, richiuse dietro una pietra tombale. Per loro la croce è scandalo, come per ognuno di noi. La malattia, la sofferenza, la morte per tutti sono uno scandalo. Del resto è la nostra società, la nostra cultura ci hanno abituati a rimuoverle, a nasconderle. Fino a quando irrompono nell'esistenza e annullano speranze e progetti. Quelli di un'intera generazione come oggi colpita dal coronavirus o quelli più piccoli ma non meno importanti di una moglie, io, che assiste impotente alla malattia e alla morte del suo compagno di vita. E finisce così il sogno di una vecchiaia serena insieme, di vedere crescere nipoti e di essere contenti ogni giorno di tante piccole gioie. Noi speravamo. Questo verbo al passato suggerisce l'idea di una speranza conclusa, vanificata. E si può essere davvero così, stolti come i due discepoli, senza quella sapienza del cuore e dono dello spirito che ti fa leggere in filigrana la tua vita, guidata e amata dal Signore, e lenti di cuore, concentrati sul proprio senso di perdita e non sul bene che il Signore ci prepara. Ma nonostante il dolore appanni la vista, Gesù il risorto sa farsi presente. È una compagnia discreta, ascolta l'espressione del mio dolore, le domande che la mia stessa fede mi pone. E così come i loro occhi erano impediti a riconoscerlo, così i miei. Poi le sue parole e la sua presenza, attraverso la preghiera e il conforto degli amici, compagni di cammino, piano piano si fanno strada nella sofferenza e la illuminano fino a che posso chiedere al Signore resta con me perché si fa sera. Gesù è davvero una presenza discreta e ha bisogno di essere chiamato, invocato. La sua disponibilità è totale, sofferta e offerta nel pane eucaristico, nella certezza di una vita senza fine che si fa pane, che apre a speranza nuova, che posso condividere con i miei fratelli e con mio marito. Dammi sempre, Gesù risorto, la gioia di riconoscerti nel pane spezzato per me che tu sei, nella promessa già interrealizzata della vita che non finisce, dove io ti possa contemplare e ritrovare un giorno le persone più cali. Quarta tappa, il risorto si mostra vivo ai discepoli. Ti adoriamo, Gesù risorto, e ti benediciamo perché con la tua Pasqua hai dato la vita al mondo. Dal Vangelo secondo Giovanni La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, si fermò in mezza l'ora e disse «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il costato, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo «Pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse «Ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dissero allora gli altri discepoli «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il dito nel posto dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò». Otto giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa, e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, si fermò in mezzalora e disse «Pace a voi». Poi disse a Tommaso «Metti qua il tuo dito, e guarda le mie mani, stendi la tua mano e mettila nel mio costato, e non essere più incredulo, ma credente». Rispose Tommaso «Mio Signore, e mio Dio». Gesù gli disse «Perché mi hai veduto, hai creduto. Beati quelli che pur non avendo visto, crederanno». Molti altri segni fece Gesù in presenza dei Suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questo libro. Questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel Suo nome. Come si fa a incontrare un Gesù risorto e vivo se restiamo chiusi nei nostri cenacoli? Tra gli amici, nel dolore, nel ripiegamento, nella bolla del nostro Io, niente paura. È Gesù che si presenta, che non sfonda la porta del nostro cuore, perché non ha bisogno di farsi largo così. Lui penetra nel nostro intimo, ci incontra e ci parla. Ci sono ancora cascata, provo a fermarmi, ma poi l'affastellarsi affaccendato di pensieri non mi permette di centrarmi, e così mi ritrovo chiusa, come nell'immagine che apre questo Vangelo, i discepoli che sono chiusi. E chiusa appunto a seguire i miei pensieri, anche le mie paure, le mie preoccupazioni, le mie ansie, il mio smarrimento, che riccheggia un po' lo stato d'animo che immagino attraversare in questa scena i discepoli chiusi. Però non mollo e continuo a provarci, a stare, a fermarmi. E scelgo uno strumento che mi fa un po' d'alleato. Questo strumento è il respiro. E quindi cerco di riposare proprio nella sensazione dell'addome che semplicemente avanza e si ritrae, seguendo il ritmo del respiro. Mi lascio così cullare. E in questa sensazione, con calma, pazienza e perseveranza, piano piano, senza che io me ne accorga, questo senso di chiesura si trasforma in un'apertura, in uno spazio che si amplia. E allora riecheggia con forza, intensamente, una parola. Questa parola è pace. E suona più volte, come più volte viene ripetuta in questo brano. È la prima parola che viene detta, pace, pace. E forse è un po' così io lo sento, se non altro, la precondizione di un incontro, dell'esperienza di un incontro. Che ci sia questo silenzio, questa pace, questi pensieri che si quietano, questi stati d'anamo che si placano. E allora nella esperienza dell'incontro sento proprio questa possibilità, questo spazio che si amplifica, questa luce che come un riflettore puntato mi dice qualcosa di me, di più autentico, di più vero. e mi lascia con questo senso di espansione e di pace. Quinta tappa Il risorto conferisce il primato a Pietro Ti adoriamo, Gesù risorto, e ti benediciamo perché con la tua Pasqua hai dato la vita al mondo. Dal Vangelo secondo Giovanni Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro Simone di Giovanni, mi vuoi bene tu più di costoro? Gli rispose Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse Pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Gli rispose Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse Pasci le mie pecorelle. Gli disse per la terza volta Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli dicesse mi vuoi bene e gli disse Signore, tu sai tutto tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù Pasci le mie pecorelle. Generoso e impetuoso Pietro ci fa da specchio con i suoi scatti, i suoi dubbi, le sue paure. Sì, Pietro ci somiglia ma Pietro crede di dover essere bravo il più bravo di tutti in fondo Gesù non gli ha dato forse il primo posto ma adesso per Pietro arriva l'ora decisiva perché lui ha tradito ha bisogno di essere perdonato e Gesù non lo rimprovera non gli impone delle penitenze gli dice semplicemente Simone di Giovanni mi ami tu non gli dice Pietro allora ci risiamo? Cosa vuoi fare? Pietro Ami le mie pecorelle? No Pietro mi ami tu? Allora Pasci le mie pecorelle. Sono contenta che mi sia capitato questo Vangelo con la figura di Pietro perché io e Pietro ci assomigliamo come Pietro sono un entusiasta sono una generosa capace di slancio e di tuffarmi in un ideale tant'è vero che con mio marito e i nostri figli siamo stati in missione ad Gentes per otto anni come Pietro ho dubbi tanti e paure e nei momenti cupi non riconosco Gesù come Pietro non ho la capacità magari di arrivare prima afferrare alvoro le situazioni ma ho il coraggio di entrare e di andare a fondo e come a Pietro mi viene rivolta oggi questa domanda da Gesù mi vuoi bene? non mi chiede se prego se vado a messa se sono una brava persona ma mi chiama per nome mi scruta e mi chiede se gli voglio bene è questo il nocciolo da cui scaturisce tutto il resto lui già me ne vuole di bene e mi chiede reciprocità conosci già il mio cuore sa la risposta ma vuole che io mi conosca e faccia chiarezza in me stessa dallo scorso autunno ad oggi ho vissuto un decrescendo lavorativo che mi ha portato da un posto di responsabilità full time e in contemporanea lo studio per un master alla disoccupazione in questo percorso che sembra un gioco a ribasso penso che mi sia chiesto di perdere la mia vita intesa come la intendevo io con i miei progetti i miei tempi le mie priorità penso che mi sia chiesto di accantonare quel io quel mio un po' troppo ingombranti questo non è un gioco a ribasso alla fine ma è un itinerario di libertà per arrivare a poter guardare Gesù negli occhi e rispondere l'affanno del lavoro che pur ho sempre cercato di vivere cristianamente non mi permetteva di sentire la domanda mi vuoi bene? essendo una persona coscienziosa mi sono sempre presa le mie responsabilità fino ad arrivare a pensare che le cose dipendessero da me anche la mia famiglia lasciavo le briciole tolto il rumore di fondo sto imparando a sentire di nuovo la voce di Gesù e lui mi chiede mi vuoi bene? Pietro ha risposto di sì e si è trovato a passare da pescatore a pastore da uno che cattura a uno che si prende cura di ciò che non è suo sto facendo il mio percorso per arrivare a sostenere lo sguardo di Gesù e rispondere quando e come ritroverò la mia vita non lo so ma so che quando sarà non sarà più una vita solo mia grazie a tutti sesta tappa il risorto sale al cielo ti adoriamo Gesù risorto e ti benediciamo perché con la tua Pasqua hai dato la vita al mondo dagli atti degli apostoli così gli apostoli venutisi a trovare insieme domandarono a Gesù signore è questo il tempo in cui ricostruirai il regno di Israele ma egli rispose non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il padre ha riservato alla sua scelta ma avrete forza dallo spirito santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme in tutta la Giudea e la San Maria e fino agli estremi confini della terra detto questo fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse al loro sguardo e poiché essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero uomini di Galilea perché state a guardare il cielo questo Gesù che è stato di tra voi assunto al cielo tornerà un giorno allo stesso modo in cui lo avete visto andare in cielo tante volte pensiamo all'ascensione come alla scomparsa di Gesù ma è proprio così certo Gesù non si può né abbracciare né fotografare si è reso invisibile ma non irreperibile allora poniamoci la domanda e nella pandemia del Covid-19 si può incontrare? mentre ci si scambiava gli auguri nella notte di Capodanno del 2020 nessuno di noi avrebbe mai immaginato quello che sarebbe accaduto nel giro di poche settimane di quello che la pandemia ha portato alle persone in tutto il mondo certo qualche film del genere catastrofico aveva mostrato certi scenari ma tutti noi li avevamo guardati come fantascienza appunto e invece ci siamo trovati fermi fermati chiusi in casa impauriti per noi per le nostre famiglie per i nostri genitori anziani incerti sul futuro e senza possibilità di essere artefici di azioni concrete che potessero risolvere la situazione non potevamo certo eliminare il virus e dopo il primo schiaffone ricevuto sono iniziate le riflessioni le valutazioni su quello che stavamo vivendo per la nostra famiglia rimaneva la tranquillità di una casa accogliente ma chi una dimora non ce l'ha come fa a vivere questa ulteriore difficoltà i nostri posti di lavoro non hanno subito problemi ma chi ha perso il lavoro e chi non lo troverà per la stagione estiva come farà ad affrontare la vita quotidiana e se mi ammalassi e se portassi il contagio a casa dai miei familiari tante domande poche risposte la parola di Dio ci dice che non spetta a noi conoscere i tempi e i momenti ma Gesù ci annuncia che avremo forza dallo Spirito Santo e dai suoi doni e allora diventa più facile alzare gli occhi al cielo e guardarlo con speranza se dovessimo fare tutto con le nostre forze come riusciremmo a farcela siamo tutti sotto lo stesso cielo e insieme con lo Spirito Santo che ci unisce possiamo proseguire il cammino in attesa del giorno in cui Gesù ritornerà in questo periodo di fermo se non siamo arrivati se non siamo riusciti ad arrivare fino agli estremi confini della terra abbiamo potuto nel nostro quotidiano ciascuno dare il proprio contributo con semplicità io e Chiara la secondogenita appena rientrata dal servizio civile in Bolivia appena in tempo abbiamo presidiato il fortino in casa fra impasto della pizza biscotti e videochiamate ai nonni cercando di aiutarli a vivere un giorno alla volta senza farsi prendere dalla paura Mario e Mamadou che è il ragazzo senegalese che vive con noi da tre anni e mezzo hanno potuto aumentare la loro attività in Caritas perché l'aumento delle persone che si sono rivolte alla sede a Diocesana è stata veramente intensa e sapevano che c'eravamo noi che pensavamo a loro Matteo il primogenito all'inizio del suo percorso da medico ha svolto l'attività di volontariato in ospedale a Bologna la distanza la fatica tutte situazioni che comunque si sono fatte sentire ma sempre nella gratitudine di quello che ci è stato dato di vivere e leggendo il brano leggendo questo brano mi immagino di guardare i volti degli apostoli e li vedo stupiti ma anche sereni quasi gioiosi nonostante il momento di distacco che stanno vivendo e mi tornano alla mente al cuore le intense sensazioni vissute durante le veglie alla stelle nei campi estivi con gli scout quando di fronte alla maestosità del firmamento pieno di stelle mi sentivo come un puntino un puntino però grato grata di essere lì e mi risuonano le parole della seconda lettura della messa di domenica scorsa tratte dalla lettera di San Pietro Apostolo carissimi adorate il Signore Cristo nei vostri cuori pronti a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto con una retta coscienza grazie a tutti Settima tappa Il Risorto manda ai discepoli lo spirito promesso Ti adoriamo Gesù Risorto e ti benediciamo Perché con la tua Pasqua hai dato la vita al mondo Dagli Atti degli Apostoli Allora gli Apostoli ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Olivi che è vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso in un sabato Entrati in città salirono al piano superiore dove abitavano C'erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo Giacomo di Alfeo e Simeone lo Zelota e Giuda di Giacomo Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù e con i fratelli di lui Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire si trovavano tutti insieme nello stesso luogo Venne all'improvviso dal cielo un rombo come di vento che si abbatte Gagliardo e riempì tutta la casa dove si trovavano Apparvero loro come lingue di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi Si trovavano allora in Gerusalemme Giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo Venuto quel fragore, la folla si radunò e rimase sbigottita perché ciascuno li sentiva parlare la propria lingua La Pentecoste non è la fine della Pasqua è il suo compimento, la sua pienezza Noi rischiamo di pensare che la Pentecoste abbia chiuso la parentesi del lungo grande giorno pasquale e che non è durato 24 ore e neanche solo una settimana ma è durata addirittura 50 giorni La Pentecoste non chiude La Pentecoste apre La Pentecoste non è un evento isolato Lo Spirito Santo non è sceso giù dal cielo per poi sparire ma per rimanere L'aveva detto Gesù riceverete forza dallo Spirito Santo La vita allora La storia davvero può essere una Pentecoste permanente Ho superato i miei 50 anni lo dico con gioia perché anni fa fui colpita dalla malattia e abbastanza grave e da questa esperienza ho scoperto che la vita da allora è una continua Pentecoste perché lo Spirito Santo mi ha fatto il dono di non avere più paura sono moglie sono madre e sono soprattutto donna Vorrei donarvi questa sera quindi un piccolo segreto che vivo come donna da più di un anno Mi arrivò un anno fa una notizia della parrocchia vicino e mi disse che era appena arrivata una famiglia siriana profuga e proveniva attraverso i corrigioni umanitari da questo campo profughi e a un certo punto chiesi chi erano lei era una vedova con tre figli e avevano bisogno di pentole allora io, mossa dallo Spirito Santo veloce, apri i cassetti di casa mia presi le prime pentole, quelle che avevo in più il tovagliato e corse in strada presi la macchina per portarle ma mentre andavo su fui assalita da un dubbio e dissi ma come ci capiremo? io non parlo arabo come posso fare? ma mi vennero in mente le parole che abbiamo appena ascoltato del Vangelo venuto, dice il Vangelo quel fragore la folla rimase sbigottita perché ciascuno li sentiva parlare nella propria lingua e accadde veramente questa donna quando arriva e mi accorse con sorriso mi fece sedere e stupita mi riconobbe come la madre di Chiara mi mostrò nel suo cellulare il volto di mia figlia che era in quel momento in un campo in Libano in un campo proprio che stava aiutando come volontaria ed era Chiara in quel momento era a sedere vicino a suo fratello noi ci guardammo abbiamo capito immediatamente che solo Dio poteva aver unito le nostre storie chi poteva immaginare che lei sarebbe venuta ad abitare a pochi chilometri da me emozionate ci siamo abbracciate e stupite ci siamo veramente abbiamo riconosciuto il dono dell'amore e da allora ci chiamiamo sorelle e senza traduttore abbiamo continuato a vederci con altre donne musulmane sua cognata è una loro vicina tra l'altro marocchina ma tutte musulmane io ho insegnato loro a cucire degli abiti e altre cose di casa perché in mano ho quest'arte loro invece mi hanno ricambiato ho prenduto il loro tè il loro caffè mi hanno insegnato a fare il loro pane ogni tanto vado su prendo un po' loro me lo fanno mi dicono Barbara vuoi fare a sediano? beh insomma e vado alla conclusione posso dire dunque che io ho vissuto la nuova Pentecoste e ho visto l'azione dello Spirito Santo perché lo Spirito Santo è sceso su di noi ha voluto unire i nostri cuori e la nostra fede nell'unico Dio dell'amore perché la buona novella è sempre accolta dal cuore di donne credenti come ha fatto Maria di Martala che ha riconosciuto Gesù risotto e per questo cari fratelli vi saluto dicendovi Alleluia Per intercessione di Maria chiediamo a Gesù risorto di benedirci di farci sempre sentire la presenza del Padre e di aiutarci a prepararci in questi prossimi giorni alla venuta dello Spirito Santo il Signore sia con voi e con il tuo Spirito vi benedica Dio Onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo Amén andate in pace rendiamo grazie a Dio E in conclusione a questa Via Lucis speciale permettetemi un ringraziamento di cuore alle sette donne che ci hanno regalato queste bellissime preziose testimonianze di vita un grazie ad Olga a Sonia ai nostri tecnici e all'Alessandro Giovanardi poi vi vorrei ricordare i prossimi appuntamenti domani sera il 23 maggio saremo in collegamento in diretta dal Santuario della Madonna di Saiano per trasmettere il tradizionale pellegrinaggio mariano dell'Azione Cattolica non potendo viverlo come gli altri anni quando le persone salivano fisicamente al Santuario della Valmarecchia sarà un pellegrinaggio virtuale per affidare a Maria questo nostro tempo dicono gli amici dell'Azione Cattolica il Vescovo Francesco insieme all'assistente diocesano di Azione Cattolica Don Gabriele Gozzi e ai responsabili dei vari settori di Azione Cattolica pregheranno un rosario meditato tramite i nostri media diocesani e poi l'appuntamento domenica 24 alle 11 con la celebrazione della Santa Messa continuiamo a fare questo prezioso servizio soprattutto per le persone che ancora non si sentono di andare a vivere la Santa Messa all'interno di una chiesa e poi da lunedì prossimo per l'ultima settimana di maggio ancora una volta l'appuntamento con la recita della preghiera del rosario tutti i giorni da lunedì a giovedì alle 18.30 saremo proprio al santuario della Madonna di Saiano grazie per averci seguito a voi tutti l'augurio di un buon proseguimento di serata speriamo con i nostri programmi di saluto di saluto di saluto Grazie a tutti.